Ciao a tutti quanti, allora oggi voglio introdurvi un paio di miei amici perché questa è il nostro diciamo no e no, è una campagna per la sensibilizzazione delle donne, per difendersi, per avere più di autostima e anche dire no, è perché il tuo no è giusto e il tuo no quando lo dici deve essere rispettato. Allora io qua sono i top, gli esperti top delle top delle arti di combattimento, sono Danilo Rossi Laiolo e Alan Saita e noi siamo qua e loro sono dalla Calix Academy e loro sono esperti in arti di combattimento con armi da taglio ma Danilo spiegaci meglio la vostra vera professione, che cosa fate durante il giorno. Allora noi diciamo che abbiamo dedicato una parte della nostra esistenza alle tecniche del combattimento sulla difesa e sull'attacco, perché è importante capire che quando si parla di difesa bisogna partire da un concetto di giustamente no e no attacco, devo essere comunque, mi devo imporre per avere una libertà di poter esprimere quello che io sono, ecco che è importante questo no e no. Alan per te quando noi diciamo no e no, che cosa vi viene in mente? Ma la prima cosa è il rispetto, è un limite imbaricabile, no? No, non vado oltre, questo vuol dire ok, rispetto i tuoi confini ma tu rispetti i miei. Allora ragazzi, quello che abbiamo detto, questa sarà proprio una serie di clip che faremo insieme con questi grandissimi esperti per aiutare voi donne a dire no e essere rispettate con la vita.